Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata, ma non di liberamente in camper, perché abbiamo un ospite che credo che conosciate, lei e Cristina Fustinoni, siamo nella sua veranda della Tabbina e quindi questa volta sono io che ti ospito e quindi è lei che mi ospita questa volta allora in realtà noi stiamo ciacciarando, perché? Perché molte persone mi chiedono ma torneresti mai nella tua vita precedente? e io dico no, io non cambierei mai vita a quello che è il mio camper ci sto bene, è il mio mondo, è tutto a misura di Bubris ma io ti volevo fare una proposta, volevo proporre a Bubris e al grande amante del mondo dei camper di provare qualcosa di veramente nuovo e quindi ti sfido ti voglio sfidare a provare una caravan nella fattispecie la mia caravan, la mia Tabb con la mia 500 e quindi fare una prova, se accetti questa sfida di provare a vivere una settimana in caravan quindi con tutto quello che sono le comodità della caravan connesso a tutto quello che sono le cose diciamo più o meno comode e dirci tra una settimana come ti sei trovato o raccontarci man mano, visto che non farai silenzio un attimo ovviamente allora intanto per me è come tornare al primo amore e si sa che il primo amore non si identica mai però se lei mi lancia il guanto della sfida posso non lanciaglielo io con Blu? quindi io accetto la sfida se tu accetti di prenderti Blu per una settimana e di viverlo come si vive esattamente Blu una casa su ruote allora io ti posso assicurare che lo prendo e accetto volentieri purtroppo non avendo la possibilità diciamo di muovermi di sfruttare lo porterò in Fustinoni Sport ti prometto che lo posso controllare non lo venderai non lo venderò ti giuro visto che avrò la folla che vorrà venire a visitare visto che già in concessionario mi chiedono non posso vedere il camper come il Blu di Bubris ecco appunto per cui sì lo porto fino a Bergamo lo terrò con affetto in concessionaria e aspetto poi e io dove sarò? sapete che quando mi chiedono ormai la gente non mi chiede più ciao come sai ciao dove sei? perché io sarò in giro per l'Italia vi dico solo seguitemi fate invitare fate invitare io penso che con un gioiellino del genere tutti l'avete visto ovunque diciamo con il suo blu ma io penso che a Re Sosta cambio solo tonalità a Re Sosta e Camper saranno felicissimi di ospitarti e di invitare diciamo la mia rullottina e il mio A con te e poi mi dirai un po' come sarà tanto voi seguitemi perché io ogni volta mi taggerò nei posti e sapete che mai più di un giorno massimo un giorno e mezzo rimarrò in quel luogo state lì e ci vediamo nelle tappe ciao Uzz ok ciao a tutti ciao ciao ciao